Sono venuto direttamente alla Liguria qua in Toscana per mangiare a Dario Cecchini, molto buono, ma giustamente essendo con amici ho visto un orologio su un polso e ho deciso di portarvelo anche in video. E' un Gerald Genta Crono Success numerato, via da un mio caro amico con la cui famiglia aveva anche proprio dei legami con Genta. E' il numero 10 come si vede qua da Lanza, è un 35 mm in acciaio con questo quadrante in fibra di carbonio e vetro con le sfaccettature. E' un Crono Condata che riprende tutti gli stilemi di Genta che in questo periodo è completamente tornato al suo apice con LVMH e Arnault e mi faceva piacere farmene vedere uno invece del periodo diciamo e quindi ve l'ho portato. Vi piace l'orologio?